Un grande risultato? L'altra squadra della città ha grandissime tradizioni, ha una grandissima storia, ha tifosi molto caldi, è un derby, nel derby succede tutto, non sempre vince chi sulla carta è più forte e quindi ci sarà per noi un impegno probante, un impegno importante sotto tutti i punti di vista. Quindi ci dobbiamo far trovare preparati perché so benissimo che troveremo un toro insieme a loro tifosi molto affamati, molto vogliosi di vincere. Milano è a meno 18, l'Inter è ancora più indietro, è arrivato il momento degli applausi, il suo giocotere, la sua squadra? Il momento degli applausi veri e propri arriverà nel momento in cui ci sarà la matematica con cui sta lo scudetto, allora lì ci saranno gli applausi. Adesso ci sono applausi perché stiamo facendo delle cose importanti e straordinarie, ripeto, numeri e distacchi così rispetto a squadre come Milan e Inter ci fanno capire che stiamo facendo veramente qualcosa di straordinario. Però adesso bisogna comunque portare a casa il risultato, ci stiamo avvicinando, questi ragazzi hanno voglia di vincere e poi di staccare la spina. Grazie a tutti.